salve poco fieri poco fieri bentornati in questo nuovo video in questo nuovo video siamo su moto gp con la priglia rsv di manuel poggiali con la gara 2 come iniziare vi potete usare natural dp di un peccatore e tana con il contrattivo basso lascerò il link in ispezione e niente io vi lascio al video iscriviti al canale 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 iscriviti al canale